Marco Stefanetta decadrà ufficialmente dalla carica di sindaco a metà della seconda settimana di maggio. Le sue dimissioni sono state già annunciate nei mesi passati e motivate con impegni di lavoro. La lettera di dimissioni è stata protocollata venerdì scorso, 21 aprile. Oggi sono state formalizzate al prefetto del VCO Vogonia. Dunque andrà alle urne nella primavera del 2024. Questi quattro anni sono stati molto importanti per Mary coprire la carica di sindaco del proprio paese un onore. Anni però difficili dove abbiamo dovuto fronteggiare l'emergenza covid prima, l'alluvione poi nonostante tutto porterò con me un ricordo molto speciale degli anni trascorsi in municipio dice Stefanetta a bilancio della legislatura che si è conclusa per lui in tempi di addi. Si tirano anche le somme del lavoro svolto. Abbiamo fatto molto per migliorare la vita dei nostri concittadini. Inizio con ringraziare la squadra che con me ha lavorato dice Stefanetta. Il loro supporto è stato sempre importante rispetto ai lavori fatti. Mi piace ricordare il rifacimento degli aspalti oppure altre opere attese da lungo tempo come la messa in sicurezza dei ri della paese. Ieri 25 aprile impegni di lavoro lo hanno portato lontano da Vogonia. Sarebbe stata la sua ultima festa della liberazione con indosso la fascia tricolore affidato ad un lungo posto pubblicato sui social il suo auguri alla città. Per me oggi ha scritto non poter essere con voi. È motivo di profondo dispiacere ma impegni di lavoro mi vedono lontano dalla mia amata Vogonia. Oggi per me è l'ultimo 25 aprile da sindaco dopo 14 anni di impegno nell'amministrazione di Vogonia. Rivolgo un pensiero a chi ha preceduto me negli anni passati e oggi non c'è più. A Marco, Giampiero, Luciana, Felice. A chi verrà dopo di me? Dopo di noi auguro di poter svolgere il proprio mandato ricoprendo il valore profondo di quanto Don Milani con il suo straordinario esempio ci ha consegnato. A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca? A tutti noi, ognuno per il proprio ruolo. Il compito e l'augurio di avere sempre la forza, la saggezza di mettersi a disposizione della propria comunità.